È una forma coscienza. Che cos'è una religione? Commento. È una forma coscienza che attraverso una forma pensiero, energizzata nei secoli da milioni e milioni di credenti, ha espresso ed esprime la necessità evolutiva dell'umanità. Chi per evoluzione raggiunta inizia a sentire che la divinità è in ogni uomo tramite la scintilla divina, si avvicina alla religione della coscienza.